ciao carissima anima rieccomi qui e questa volta per parlarti di questo mese speciale siamo a dicembre vi ho introdotto questo argomento ma quello che più in questo momento dobbiamo guardare è il sole sono anni che vi parlo del sole ma finalmente ci siamo siamo vicinissimi al grande evento e questi non saranno giorni normali il sole le tempresse solari grandissime emissioni di plasma la grandissima energia che sta scendendo sul pianeta ora ci cambierà tutti non saremo più gli stessi e allora che cosa abbiamo pensato in presenza in questo mare sotto il sole del sud della calabria a riunirci per il solstizio d'inverno quale miglior momento se non celebrare la vittoria del sole la nascita del nuovo sole bambino la nascita del sesto sole e ve lo spiegherò nei dettagli in presenza in uno splendido seminario dove la cerimonia sarà l'effusione dello spirito solare e non vi dico altro perché è una sorpresa e soprattutto perché dovete sentirlo sulla vostra pelle e nel vostro dna allora vi aspetto tutti il 16 17 18 dicembre il weekend che precede il solstizio che sarà il 22 per celebrare insieme la nascita del sole bambino per ricevere insieme l'effusione dello spirito solare e celebrare la rinascita della luce allora a presto qui in calabria insieme per il sole invictus il solstizio d'inverno ciao a tutti